A parlare della famiglia Valtrinieri sarebbe per me fin troppo semplice. Cercherò di essere in qualità di enologo consulente, di limitarmi a un aspetto più tecnico, anche se non è facile. Con Alberto e Barbara in questi anni abbiamo sviluppato, a partire da un litigno che ho scoperto essere straordinario come il soltana. Tutta una serie di prodotti che nascono dall'interazione tra il suolo, il clima, questo litigno e le persone con tanto amore lavorano questi campi, queste vigne. Di tutto rispetto. Abbiamo sviluppato l'eclisse, messo appunto uno sfumante fermentazione naturale come il cosso, il nostro radice che è uno dei nostri fiori all'occhiello. Ma la famiglia Valtrinieri non vuole fermarsi come giustamente deve essere e nel giro di un paio di mesi i nostri clienti affezionati ed amici potranno degustare l'ultimo nato in base a Valtrinieri, sempre a base di uva e soltana.